Non un raduno di protesta, bensì un ritrovo per celebrare un importante risultato raggiunto, o perlomeno quasi raggiunto, ma le rassicurazioni arrivate negli ultimi giorni sono davvero importanti. Le querce secolari che si trovano sul tracciato delle cantiere di strada Carloni saranno salvate. Cantiere che è attivo da una settimana, da una settimana è chiusa la strada per la realizzazione della nuova circonvallazione di Muraglia, strada che si è trovata sul suo percorso questi alberi secolari con un tracciato che sulla carta ne prevedeva il rischio di abbattimento, abbattimento però scongiurato dopo una serie di giornate in cui si sono accavallati presidi, la creazione di un comitato, una raccolta firme che alla luce degli ultimi incontri anche con la mediazione del Comune e di Società Autostrade possono dare risultati alquanto confortanti. Il risultato non è uno, è il più importante, perché da questo punto in poi si è in discesa, dobbiamo studiare come salvare le querce, come mantenerle in vita, ma non si discute più se ucciderle, se abbatterle o non abbatterle. È arrivata la certezza attorno al tavolo di lavoro presieduto dal segretario del sindaco, quindi con un notaio davanti ai tecnici, che è possibile farlo, quindi ormai è assodato che le querce non saranno abbattute, questa è la certificazione. Da qui in avanti aspettiamo da un giorno all'altro una soluzione arricchita dei dettagli che dicono come si agisce, per cui abbiamo prospettato fino a qui delle ipotesi. Giustamente Autostrade è un'istituzione che deve confermare sul piano tecnico in tutti gli aspetti, dando per scontato, punto fermo, che tutto quello che si va a proporre è fatto in funzione di salvare le querce, di non muovere. Quindi partendo da questo presupposto avremo un incontro a brevissimo per verificare quello che ci inviano sulla base delle indicazioni che abbiamo condiviso attorno al stesso tavolo, quindi oggi siamo ottimisti, questa è la situazione. E dunque il risultato praticamente raggiunto, un obiettivo centrato proprio perché c'è stata questa mobilitazione che ha fermato un percorso che era diverso sulla carta e che forse avrebbe mosso delle ruspe in maniera indiscriminata. Certamente, se non ci fosse stato il comitato che si è mobilitato già da diverso tempo, la raccolta delle firme che è arrivata già a 1500, l'impegno degli ambientalisti, fra cui Lega Ambiente, io ho partecipato a tutte le riunioni, compresa quella di cui parlava prima l'architetto, in comune e con la società Autostrade. Siamo contenti che questo tipo di movimento che ha posto l'attenzione appunto sull'ambiente, sull'importanza degli alberi e di queste querci in particolare, perché sono secolari, quindi molto importanti per l'ambiente. Siamo contenti che si giunge ad una soluzione condivisa, il che sta a significare che se prima di fare i progetti, prima di dare gli appalti, si ragionasse un po' su queste questioni ambientaliste, non ci sarebbe bisogno di arrivare neanche a queste proteste e io credo che questo debba valere per il futuro e per tutti, per i tecnici, per gli amministratori e per tutti coloro che insomma ragionano e decidono intorno a queste questioni.